Salve carissimi amici tuttubi sono Francesco e bentornati nella soffitta di camera mia o benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla quest'oggi parliamo di topolino 3308 un topolino come potete vedere con una bella copertina di casti dedicata alla storia principale contenuta all'interno del volume prezzo di copertina 3 euro quello che vedete qui è 6 perché ho acquistato anche la gendina questa agenda piuttosto carina un notebook per i 70 anni di topolino che ritrae in copertina la copertina originale di topolino dietro il logo dei 70 anni il logo dei 70 anni che potete vedere qui molto molto carino esisteva esiste in due versioni una con lo sfondo rosso e l'altra con lo sfondo grigio lo sfondo grigio non mi convince cioè alla fine topolino è nero lo sfondo è grigio topolino non risalta un pochettino così invece questo qui ripropone a suo modo comunque la prima copertina del topolino c'ha questo elastico per tenerlo chiuso l'interno in realtà sono tutte pagine bianche con il logo dei 70 anni in blu niente di che non l'ho usata non so se la userò mai non si tratta di un prodotto di chissà quale altissima qualità ma per 3 euro tutto sommato si poteva fare l'investimento e l'ho fatto da adesso in poi topolino mi continuerà ad arrivare tramite abbonamento quindi molto probabilmente per questa settimana che viene cioè questa in cui state guardando questo video leggerò il topolino in digitale perché tra le festività i punti e quant'altro chissà quando arriverà la copia fisica topolino 3308 dicevamo che viene dopo un tot di topolini non particolarmente riusciti vediamo se questo riesce a sollevare un pochettino la media e la situazione scopriamolo insieme guardando le 5-6 storie contenute al suo interno alla mia sinistra intanto vedrete come al solito gli interni di questo topolino la storia d'apertura è il topolino e il mistero di acqua d'ombra scritta, sceneggiata, disegnata totalmente da Casti autore che come sapete a me piace molto per il suo stile di scrittura anche per il suo stile di disegno anche se preferisco nettamente molti altri disegnatori ma ha questo stile comunque molto piacevole, molto caratteristico giunge Eta Beta a Topolinia e cominciano a esserci strani furti legate a delle persone misteriose che forse in un qualche modo sono collegate all'acqua succedono tutti strani eventi atmosferici c'è l'acqua che comincia a salire verso l'alto c'è l'acqua che cade a picco solida cose strane legate all'acqua e i topolino e Eta Beta cominciano a indagare per cercare di capire che cosa stia succedendo diciamo che l'intervista della settimana scorsa sul topolino scorso era spoiler in parte molto più di quanto mi aspettassi leggendo l'intervista perché comunque ci dice buona parte di quello che succede all'interno di questo topolino peccato però non mi ha rovinato comunque la lettura però ecco se non volevate avere informazioni non dovevate leggere quell'intervista mannaggia a loro perché l'ha messa nel topolino precedente la vicenda si prefigura come un classico giallo alla casti e sinceramente non vedo l'ora di vederne la seconda parte per scoprire in che modo i nostri protagonisti fermeranno l'antagonista gli antagonisti insomma chi c'è dietro a tutta questa storia la seconda storia di Alessandro Sisti per i disegni di Alessandro Perina dal titolo Zio Paperone è la BB Depositum una storia che in realtà parte molto in là cioè ha tutta una lunga premessa narrativa con il sindaco di Paperopoli che vuole sfruttare l'immagine del deposito per portare turisti a Paperopoli quindi sfruttare proprio l'immagine del deposito per fare promozione turistica cosa che strano che nessuno ci abbia mai pensato soprattutto di Paperone in primis però resta il fatto che c'è questa cosa qui e a un certo punto i bassotti cominciano ad elaborare un piano con i turisti per arricchirsi ai danni dell'ozione diciamo che questa cosa qui avviene molto là nel tempo quindi una cosa che c'è tutto il tempo per vederla all'opera una storia che non sarà innovativa probabilmente ma che inserisce certi elementi interessanti, intriganti, nuovi ad una vicenda che è la classica i depositi, i bassotti vanno a derubare il deposito di Paperone fondamentalmente e lo fa bene, è una storia divertente che funziona una storia che non avrei messo in apertura del topolino perché non è una storia così forte ma come storia secondaria ci sta alla grande Enrico Faccini come autore completo quindi a soggetto sceneggiatura e disegni ci presenta Archimede e la soluzione economica Archimede ha bisogno di un solvente per fare un prodotto per l'ozione De Paperone ha bisogno di liberarsi di un certo determinato prodotto lo affinare a Paperogue comunque Paperoga vuole venderlo per cercare di guadagnare soldi Archimede scopre che in questo prodotto c'è buona parte della sostanza che gli serve e da lì cominceranno i guai una storia che non è muta non è muta, quindi non è il solito faccini muto è un faccini parlante se vogliamo definirlo così divertente ci sono delle gag anche piuttosto riuscite sul finale visto che cosa succederà grazie a questo elaborato questo prodotto di Archimede con delle cose abbastanza surreali e che proprio per questo ti trasmettono allegria e una risata per una breve quindi anche questa è riuscita video stabile il libro ermetti in Pippo e l'orologio taciturno Pippo scopre un orologio nella sua soffitta un orologio a cucù che però non fa cucù si domanda che cosa sia successo lo porta ad un orologiaio lo porta a Minnie e Pippo e Minnie viaggeranno per cercare di capire cosa nasconde questo orologio una caccia al tesoro se vogliamo con Pippo e Minnie quindi una coppia non particolarmente consueta all'interno del mondo Disney se togliamo la maxisaga di Pippo e Porter che però aveva tutta un'altra intenzione tutto un altro scopo tutto un altro obiettivo qui è molto più giocosa la cosa alla ricerca di un tesoro quindi anche questa tematica con questi personaggi non è usuale e in definitiva è una storia che mi ha trasmesso allegria spensieratezza ci sono i giusti colpi di scena là dove ci devono essere una breve riuscita anche questa ma del resto Vito Stabile lo sapete penso che sia uno degli autori migliori tra gli emergenti Disney in realtà tutti tra gli autori emergenti che sono Vito Stabile Pietro Zemelo Federico Rossi e Drighi fanno dei lavori fotonici per i disegni di Libro Armetti che a me piace tantissimo un disegno molto classico molto pulito ma comunque personale cioè ha una personalità che si riconosce non è Giorgio Cavazzano non è pulito quanto Giorgio Cavazzano anche se tende a ispirarsi a lui però si capisce che non è non è solamente un copia e incolla è un pochettino più personale Bruno Sarda e Michele Mazzon in Paperino Paperoga Gastone e la finale imperdibile una gag story in realtà molto molto semplice basata sulla scaramanzia perché se il Paperopoli vince tutte le partite bisogna sempre comportarsi in maniera scaramantica nello stesso identico modo stessi vestiti stessi asteggiamento stessi riti a suo modo per propiziare la vittoria del Paperopoli ma succederà qualcosa che andrà contro questa tradizione storia breve divertente basata su questo concetto qui Matteo Venerus e Andrea Lucci nelle giovani marmotte l'intesa naturale dal punto di vista grafico Lucci non mi ha convinto fa molte tavole lo vedete anche già nell'anteprima sono molto spoglie troppo spoglie mi ha fatto una sensazione strana Matteo Venerus invece ci ha dimostrato che può creare una storia decente diversamente da Wizard of Mickey non che questa sia una storia particolarmente esaltante intendiamoci però ha tutte le sue cosine ci sono le marmotte che a un certo punto dalla montagna aggiungono a Paperopoli e fanno un po' di caos le giovani marmotte in realtà qui o qua che cercano di capire che cosa è successo per cercare di riportare le marmotte alla loro dimora naturale quindi sulle montagne e succederanno tutta una serie di cose tutta una serie di indagini che li porteranno a scoprire cosa effettivamente ci sia dietro e da lì cercare di risolverla canovaccio molto classico molto semplice ma funzionale diversamente dalle sue storie di Wizard of Mickey dove non si capisce neanche cosa stia succedendo quindi è un autore che ci sa fare però non si capisce perché con altre serie non ci riesca detto questo in conclusione questo topolino è un topolino che mi ha convinto tutte le sue parti non contiene nessuna storia che mi abbia fatto storcere il naso a parte forse se vogliamo l'ultima ma cioè fossero così le storie brutte del topolino ci metterei tre firme fondamentalmente in calce ad ogni documento è un topolino che mi sento di consigliarvi assolutamente sì se volete avere una panoramica anche piuttosto diversificata dai vari generi che si trattano tra le famiglie tra le varie storie Disney è un topolino secondo me perfetto in tutte le sue parti mi auguro che il prossimo topolino sia dello stesso livello anche considerando che ci sarà il finale del mistero d'acqua d'ombra che mi ha convinto molto come giallo e non vedo l'ora di vedere come Casti porrà fine a questo mistero perché comunque c'è del mistero il prossimo topolino poi è molto particolare se vogliamo perché a vedere dall'indice a vedere dall'indice dal al di là del fatto che la storia di apertura è con Paperino e lo si vince dalla bellissima copertina di Giorgio Cavazzano le storie presentate sono per lo più legate al mondo di topolino cosa che non avviene da tantissimo tempo sembra esserci una storia dedicata a Canova che dovrebbe essere una storia del ciclo dell'arte ma stando al sito di topolino non è di Roberto Gagnor quindi la storia del ciclo dell'arte si apre ad altri autori perché no perché no io me lo augurerei anzi che anzi che vedere una serie che sta non dico andando in declino ma che è sempre uguale a se stessa vedere anche un po' di ringiovanimento questo è quanto avevo da dire per oggi qui sotto nello spazio i commenti aspetto vostre opinioni in merito a questo topolino avete letto queste storie non le avete lette vi sono piaciute quale vi è piaciuta di più quale di meno segnalatemelo scrivetemelo qui sotto nello spazio i commenti qui da Francesco i popoli a mie spalle dalla soffitta di camera meno più soffitta è tutto e noi ci vediamo ad una prossima video opinione del canale ciao